buongiorno a tutti e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 5 ottobre 2015 siete come sempre sintonizzati sul canale 17 di fano tv che in diretta tutte le mattine alle 7 30 con le repliche fino alle 8 e 30 poi alle 9 10 alle 13 a 30 vi racconta e vi legge i titoli delle notizie più importanti riportate sui quotidiani il resto del carlino il corriere adriatico ed il messaggero questa mattina come tutte le mattine cominciamo dall'almanacco del giorno in particolare guardiamo il santo di oggi oggi è san placido è stato un monaco il sole è sorto alle 7 08 e tramonterà alle 18 e 46 minuti il tempo previsto per la giornata di oggi abbiamo 17 gradi questa mattina sarà una giornata non proprio freddissima anche se coperta dalle nuvole andiamo sul sito della protezione civile per vedere le previsioni di oggi avremo cielo sereno cielo nuvoloso a tratti molto nuvoloso con possibili locali piovaschi o brevi rovesci le temperature in lieve diminuzione nei valori massimi i venti saranno settentrionali di brezza leggera o brezza tesa poi in rotazione dai quadranti meridionali dal tardo pomeriggio o dalla sera il mare sarà poco mosso per martedì domani 6 ottobre cielo parzialmente nuvoloso con persistenti nuvole basse stratiformi possibili deboli precipitazioni sparse le temperature sono in liveo aumento i venti non sono indicati e il mare sarà poco mosso la giornata di mercoledì invece sarà interessata da residue precipitazioni mentre per la seconda parte della settimana prossima è atteso un miglioramento delle condizioni meteo anche se c'è da dire che insomma c'è qualcuno che annuncia questo freddo intenso che dove il primo grande freddo intenso che dovrebbe arrivare di ottobre che dovrebbe arrivare dalla dalla russia vedremo comunque perché poi tutta questione anche lì di traiettorie quant'altro allora intanto il maltempo che c'è già stato quello che ha colpito can che ha colpito quella quella parte del dove ha creato non pochi problemi anche ai treni del dell'unità si treni che poi vanno a l'urde in quei treni c'erano anche 500 marchigiani il racconto questa mattina sui giornali paura per i pellegrini di ritorno da l'urde il diluvio dicono ci ha bloccato 18 ore in stazione sono 14 persone di pesaro 5 di urbino e 7 persone di fano tutti i pellegrini che tornavano da l'urde insieme ad altri 500 marchigiani la pioggia battente dicono raccontano ha cominciato ad infiltrarsi senza sosta persino dai finestrini del treno complessivamente erano 560 i marchigiani che stavano viaggiando con il treno dell'unità si dopo una settimana nella località mariana camminare per battere l'infarto fedelissimi sfilano tra pesaro e fano settima edizione di questa iniziativa tutti con la pettorina rossa sapete che camminare il movimento in particolare fa bene al nostro corpo al nostro organismo lo sostiene e lo dice ancora una volta Ernesto Sgarbi che è l'ideatore di questa camminata per il cuore e dice Sgarbi riduce del 50% il rischio di infarto e con un'alimentazione equilibrata si arriva anche al 90% e si prevengono anche altre patologie compreso l'Alzheimer. Oggi nella chiesa di San Carlo l'addio a Paolo Angeletti questa mattina alle 11 nella chiesa di San Carlo Borromeo in Via Nitti i funerali del collega Paolo Angeletti del resto del Carlino 57 anni celebe pesarese morto improvvisamente in casa nella notte tra giovedì e venerdì scorsi le pagine di Fano la ZTL cioè la zona traffico limitato del Lido i problemi più dei vantaggi 5 Stelle rivendicano la paternità del provvedimento la Turiani dice questa è soltanto propaganda e poi c'è la lettera di Carlo Moscelli che il giornale pubblica anche perché Carlo ha scritto per tantissimi anni sulle colonne del giornale Carlo Moscelli partendo da una sua esperienza un'esperienza personale lancia un appello ai politici parliamo di sanità i malati emigrano mentre si parla di ospedale unico sotto gli evacuati potranno tornare nelle loro abitazioni a Orciano il sindaco Stefano Bacchiocchi fatti i controlli solo uno solo una persona a ridosso veramente della voragine deve attendere e quindi non può rientrare in casa e poi il giornale scrive anche quelle che saranno le modifiche alla viabilità quella leggera abbiamo detto è veicolata nel centro del paese mentre la linea 72 quella degli autobus che proviene da Fano è stata predisposta un'altra soluzione un minibus che farà la tratta Orciano Mondavio Barchi a Pergola invece il profumo del tartufo attira 15.000 persone per il debutto ma ricordate vi ricordo che c'è ci sono altre due domeniche quindi insomma ieri ha preso il via questa ventesima edizione della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola tantissime persone e il bis si potrà fare nelle prossime due domeniche di ottobre adesso invece prima di passare allo sport e quindi vedere un attimo che cosa ha fatto l'Alma Juventus Fano e la Vispesero andiamo sul Corriere Adriatico la pagina di Senigallia la cronaca caduta shock sulla pista da cross un ragazzino di 15 anni piomba a terra in curva soccorso con l'eliambulanza il promettente giovane era alla fossa del diavolo con il padre che questo ragazzino ha riportato due fratture e delle contusioni dalla pagina di Pesero invece sempre del Corriere la rivoluzione di Matteo Ricci la rivoluzione passa in via dell'Acquedotto Bocciodromo Concordia Addio Celletta il sindaco incastro urbanistico contro il degrado della zona con marche multiservizi abbiamo trovato una soluzione per trasferire il centro di raccolta in via Toscana qui sotto il rendering del nuovo Bocciodromo quindi così come verrà costruito questa è una fotografia realizzata al computer un'immagine realizzata al computer di quello che verrà realizzato in via dell'Acquedotto e sotto invece Matteo Ricci che ha illustrato il progetto ai soci andiamo sulla pagina adesso invece di Fossombrone del Corriere perché in piazza c'è l'intramontabile sfila l'intramontabile fascino della Fiat 500 ha partecipato anche il club Roma per dare ancora più rusto oltre 80 le Fiat 500 arrivate da ogni parte d'Italia poi c'è una notizia da Urbino sotto da Fermignano si è spenta la maestra Marconi per 40 anni sui banchi di scuola e poi ancora da Fossombrone teppisti manomettono il bancomat della BM in azione nella notte una gang di giovanissimi poi sotto ancora dalla pagina del Corriere Adriatico sarà il Carnevale Jets l'evento clou dell'estate sostituirà la Fano dei Cesari intanto il Sindaco Seri lavora anche per il gemellaggio con una città statunitense insomma tutti conosciamo New Orleans che è la culla del Jets Cecchini meglio puntare sul numero ristretto di manifestazioni di qualità che su 500 appuntamenti e Zacchilli pensa e lancia la festa della fortuna Cecchini è questo signore qua e questo invece è Zacchilli poi sotto la voragine di Orciano il Sindaco riconoscimento per Martina Galli è stata lei infatti ad intuire il pericolo allontanando gli automobilisti Martina Galli vedete mentre racconta scrive nella didascalia il giornalista e il giornale il giornalista è Roberto Giungi che ha raccolto le informazioni ed è stato sul posto mentre la fotografia è un fotogramma di un'intervista che abbiamo realizzato vi abbiamo mandato in onda e che potrete rileggere potete leggere sul giornale il Corriere Adriatico di oggi Martina Galli mentre racconta la sua avventura e insomma davvero è stata una ragazza molto coraggiosa glielo abbiamo detto di persona quel giorno forse lei comincia a rendersi conto soltanto adesso di quello che le è capitato lì per lì come tutte le cose non ci si rende conto ma vista poi con la luce del sole anche quello che è successo insomma Martina è stata brava poi si è fatta aiutare ovviamente per fortuna sono capitate lì a quell'ora anche altre persone però ecco ha avuto questa prontezza di riflessi di fermare le auto ed evitare che andassero nella buca e nella voragine e venissero coinvolti in questa frana l'Avis invece, l'Avis di Fano ha festeggiato i 65 anni, 65 anni di generosità ieri le celebrazioni con i donatori della città bloccati in 560, siamo sulla pagina delle Marche del Corriere Adriatico 560 persone a rientro da Lourdes, i pellegrini dell'Unitalsi, Marche viaggiavano su uno dei treni fermati in costa azzurra per il tragico nubifraggio del convoglio faceva parte anche di una vettura barellata con 27 malati il rientro all'alba, ancora una volta a salvarci è stata la Madonna, un pacco sospetto all'aeroporto di Lourdes aveva creato panico per il volo dell'Unitalsi proveniente da Roma andiamo adesso sulle pagine del messaggero Fusione Cecconi dei 5 Stelle contro il sindaco Ricci il parlamentare, ho parlato con il Viminale nessuna deroga al patto di stabilità a Pesaro e in Monbaroccio i comuni sono pronti al via libera all'incorporazione e ci sarà ovviamente ed è annunciata una battaglia referendaria dunque però su queste parole di Matteo Cecconi il parlamentare dei 5 Stelle dice ho parlato con il Viminale non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità questa è una cosa sulla quale certamente adesso bisognerà andare a fondo anche se poi nei giorni scorsi ricorderete era stato lo stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci a dire abbiamo parlato con i saggi quindi con tante persone a Roma e tutti ci hanno detto di essere concordi con la nostra versione quindi di smentire quella di stamattina dell'onorevole dei 5 Stelle Cecconi vedremo, su questo bisognerà andare davvero a fondo per non avere brutte sorprese poi un ubriaco, siamo alla cronaca ancora sul messaggero sulla pagina principale un ubriaco alla guida tenta di investire i carabinieri Agabice fugge all'alta della pattuglia che voleva controllarlo e poi paura sui treni bianchi anche qui vedete gente oltre 500 persone bloccate Zacchilli, Zacchilli siamo a Fano Zacchilli lancia la festa della fortuna per Fanum Fortune un'idea per Fano e seri nel dibattito sui progetti culturali e turistici la data ovviamente il 10 di agosto che cozza un po' con il Santo Patrono non mischiamo sacro profano anche se poi è vero che c'è anche la tombola della fortuna il 10 di... sto sbagliando ho detto una cosa che non c'entra niente mi sono confuso il 10 luglio quindi il 10 luglio è San Paterniano e quindi siamo a posto il 10 di agosto invece è un'altra data va bene quindi si può fare il 10 di agosto non c'entra niente con San Paterniano allora paura di ciò che qui l'abbiamo già detto andiamo adesso sulla fusione il giallo dei fondi annunciati il parlamentare dei 5 Stelle Cecconi ho parlato con il Viminale dice ma i consigli comunali di Pesaro e Monbaroccio sono pronti a dare il via libera al processo di incorporazione poi il bocciodromo sempre su Pesaro allontanerà i nomadi verrà realizzato in via dell'Acquedotto con il trasferimento del centro del riciclo il sindaco presenta il suo progetto lavoraggine guardate qui anche questa foto una foto che fa capire esattamente un po' come stanno le cose quello che è successo le famiglie sgomberate rientreranno nelle case già da oggi sarà possibile dopo il via libera della protezione civile il sindaco Bacchiocchi abbiamo fermato la frana dobbiamo adesso capire le cause poi oggi a distanza di un po' di tempo ma insomma oggi suona la campanella per gli studenti del Santa Marta si torna a scuola tra quattro sedi perché sapete bene che l'istituto di Santa Marta quello ufficiale da Pesaro alle porte di Pesaro ancora non è disponibile perché ci sono i lavori il rientro di alunni e docenti nelle aule dopo il crollo del controsoffitto non è tuttavia privo di incognite adesso chiudiamo con il calcio allora intanto la Vissa la Vissa al tappeto in 20 minuti ha perso contro la Iesina fuori casa dunque a Iesi per tre reti a zero mentre il Fano il Fano vince due a zero una bella partita Fano dominatore con cinismo la vittoria vale la vetta solitaria perché adesso di fatto il Fano è prima in classifica considerando anche che poi l'assemblea di tese ha perso insomma e quindi siamo siamo primi la Mitternina comincia con entusiasmo ha giocato bene dobbiamo dire poi sbaglia e viene punita dai Granata quindi il risultato finale due a zero c'è un tra l'altro un rigore sbagliato ci sono diverse occasioni che potrete rivedere questa sera comprese le pagelle nel telegiornale potrete rivedere questa sera con la telecronaca integrale di Sergio Catalani la rassegna finisce qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti arrivederci grazie per aver guardato il video